Sindaco di Varese, Gallimberti, bella manifestazione e buona codice anche di pubblico. Beh sì, direi che questo impianto sportivo è sempre più al centro dello sport, del ghiaccio, eventi internazionali importanti e grande tifo in qualsiasi occasione. E poi la presenza delle mascotte delle Olimpiadi, un'ulteriore conferma che questo è sempre più un impianto olimpico. Vedo qualche dirigente svizzero, dove le piste di ghiaccio chiaramente in Svizzera dovrebbero essere, che invidiano un po' quello che è riuscito a fare qui al palaghiaccio di Varese. Sì, il nostro palaghiaccio è molto considerato a livello internazionale per le caratteristiche ovviamente infrastrutturali all'insegna della sostenibilità e quindi ci sono, devo dire, molti visitatori che vengono solo, oltre che per assistere agli eventi, anche per guardare con attenzione l'impianto. E questo penso che sia una soddisfazione per la città. Dopo aver vinto due titoli l'anno scorso con il Varese dell'Hockey, da domani cominciano i play-off. E quindi ci farebbe piacere anche vederla assistere al match, che lei ha commenti importanti, al palazzetto la vediamo spesso. Beh, anche all'Hockey, devo dire che le vittorie dello scorso anno sono state memorabili. E quest'anno speriamo di ripetere, insomma, e quindi ci saremo. Ringraziamo e speriamo di vedere un altro titolo, perché Varese ha bisogno sicuramente di titoli. Crociamo le dita.